scala bene in attacco il superio è mai forte ma è solido quello il fatto vedete in una partita in cui comunque non è che sia andato tutto liscio cioè non è andata male perché ho triplato subito il monte rock comunque casca in piedi è un eroe che comunque casca in piedi anche se non trova i pezzi giusti non tripla non è è sicuramente un buon eroe farei anche un po di locanda alla polis sera non lo so io mi giovedì ragazzi torna malissimo la sera non credo di riuscire a passare mi dispiace perché mi diverto un botto però una moglie che che mi mata giustamente anche stamattina è dalle otto che sono sveglio e sto lavorando alle otto di stamattina è praticamente non ci sono stato mai io va freezzo io per il vostro sollazzo mi impegno molto ecco allora beh lui per forza la questione è chi comprare come ultimo pezzo cioè sicuramente voglio sell elemental ok ma mi conviene prenderla adesso o mi conviene al momento prendere mummia e frizzare sell elemental secondo me conviene prendere goccia e non frizzo perché voglio la tripla a momento le possibilità di triplare nel due pezzi in meno quindi allora così in good ecco a voi 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 livello e compio turno successivo mi costa 7 level up vendo vendo e faccio anche un acquisto vedi un po' che dici? average luck? si average ahhh questa è Anna Mech spicy gran bel lavoro mantieni la pressione io ho livellato vedo un po' lei che cazzo ci serve una barca più grossa ci serve una barca più grossa ci serve una barca più grossa allora ragazzi potrei pescare il guadagnare tipo madonna quante kite madonna oh my oh oh oddio allora livello livello perchè non lo so cioè livello tutti questi gold allora lui è piccabile non si fa niente io onestamente fare un altro roll lui mi piace e non mi piace non è pessimo ok bello che in tutto ciò non sono minimamente forte no 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 pegol cosa hai appena fatto pegol no pegol 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 non mi servivano quei gold poca vacca due campioni non mi faccio niente no pegol no pegol no pegol bella scelta molto patica però mi serve no pegol no pegol no pegol Forse, hanno bisogno di una lezione sul dolore. Mi sento, venga! Ehi, stai proprio creando una grande armata. Stai andando bene. Stai andando bene. Ok. Si è chiamata perché non l'hai chiamata Angelica. Quella è vera, non è vero. Ma che fa sto coso? Che fa Dorato? Quindi potrei fare un alla furion dorato. O goccina dorata. Doppia tempo la perdita. Che cazzo sto facendo? Questo non è un luogo per mortali. Non lo so, 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 non lo so. Succedono cose, succedono cose, ragazzi. Non ne ho idea. Per il pericolo non lo so. Pericolo non scammare, mi attacca non il Divine Shield. Bravo Pericolo. Pericolo. Attenzione! Attenzione! Un attimo! Dai, cazzarola, ma che è sto schifo? Mi ho meritato. Come gestiamo qui la situazione adesso? Perché voglio anche livellare con Ginny in campo. Livello sicuro. Nate o malgadò. Vabbè, escono loro per forza. Stai davvero creando una grande armata. Stai davvero creando una grande armata. Sì, vabbè, è la prima luna. Bello come io ho tenuto Pegol in campo Cosa che Magari Gli vogliamo bene a Pegol Però lo possiamo anche togliere Forse era meglio Ripersirne a Margadone Però questa partita c'è Pegol Che gli vogliamo bene Cioè Sarebbe un peccato toglierlo Anche a me non piaceva Ecco qui una moneta d'oro per il discorso Anche a me non piaceva Ecco qui una moneta d'oro per il discorso Io ho visto la vera fine dei tempi Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Io sono affezionato Non voglio venderla Sistema di pensiero Stattinazgo E tu in te di compri E tu in te di compri E tu in te di compri Mi piace il tuo modo di pensare Ma io E tu 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 Prendo la sua kill a fa, dammi dei battle che hai Dai vergognati E' una delle partite più belle che Che io abbia mai fatto Da quando Da quando gioco a BG E' favolosa Col pirata 4 3 scombo Come scombo? Cambio pirati? Eh? Ah si ok in quel senso si ci sta Tipo così Aha Quasi metto doppio bumper Sono più sicuro che BG colpisca Ed è una board solida Ancora 77 28 E' te l'avimenta Nooo no Badano l'ho anche messo terzo Peggle Poi coccane Peggle Angelica Angelica Devo chiamarla Angelica Hai ragione Ok 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 Siamo top 2 Vorrei che questa partita Duri assi di più Se non ti problemi è una vergogna Però Siamo d'accordo? Lui è una poichieria Vabbè Sì ma è inutile Cioè è per lo spettacolo Posso giollare lui Cosa migliore è giollare un battle che hai qua Ecco io ciclo 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 Compio dei club BN Dovevo prendere voi Ciclo No faccio così BN Ciclo Ciclo Circa Circa Ho messo una nadina casuale nello spot Nella board E nadina rimane in campo E si vince Campioni del mondo ragazzi Campioni del mondo Meritata Grande partita Grandissima partita Bellissima 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 La mia partita Cioè è la partita del secolo questa Angelica Carey Bellissima Bellissima Chi Di Dovevo Ciao B Dovevo Cicl